appena terminata la partita contro cartiere dell'adda purtroppo non è la partita che ci aspettavamo torniamo a casa con un 3 a 0 con molto 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 rammarico abbiamo preparato la partita ma diciamo non è quello che ci aspettavamo abbiamo retto o meglio fatto quello che dovevano fare i primi dieci punti e poi abbiamo subito il loro gioco ancora una volta la loro forte difesa che è quello che probabilmente ci dà ci dà più fastidio e basta loro difendevano e facevano punto noi invece facevamo molta 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 fatica vedremo adesso come affrontare questo problema